Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti per traffico tra BV1 Variante e Calenzano verso Firenze. Troviamo inoltre code in uscita a Firenze Scandicci, a Firenze Sud, provenendo da Bologna, per traffico intenso. Qualche problema sulla Firenze Mare. Troviamo 3 km di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Firenze Ovest e Firenze Peretola verso Firenze. Sempre verso Firenze rallentamenti tra Prato Ovest e BV11 a 1 per traffico e rallentamenti in carreggiato opposta tra BV11 raccordo Lucca-Viareggio e BV11 raccordo a 12. Infipilico da tratti per traffico tra La Strassigna e Firenze Scandicci verso il capoluogo. Prima di salutarci per il traffico ferroviario per consentire la lavorazione di ripristino dell'infrastruttura a seguito dei danni dovuti al maltempo, la circolazione dei treni tra Sinalunga e Chiusi resta sospesa per l'intera giornata. Attivo un servizio di bus sostitutivi. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!